Continua la campagna di rafforzamento in casa Bianco Scudata, che nei giorni scorsi ha perfezionato gli acquisti del difensore Pietro Benivegna e del centroavanti Giuliano Guadagnoli, che prendono il posto dei partendi Hernandez ed Ortiz. L'attaccante classe 2002, originario di Favara, ha completato la sua formazione calcistica giocando prima con l'Under 17 della Lazio e successivamente nelle squadre Primavera di Salernitana e Cagliari. Prima di approdare a Caltanissetta il giocatore ha vissuto una breve parentesi al Nereto in Serie D e poi con il Misilmeri e il Castel Termini in eccellenza. Ho accettato questo progetto perché è un progetto molto di prospettiva, è una squadra storica con una grande storia davanti, con un grande tifo. È una piazza che secondo me farà molto bene in futuro, l'ho accettato subito. La squadra c'è, siamo un gruppo molto unito, uno spogliatoio molto, ci aiutiamo uno con l'altro e secondo me possiamo fare molto bene. Benivegna, centrale ma all'occorrenza terzino, i tifosi biancoscudati lo ricordano bene, essendo andato in rete al Palmindelli con la maglia della Mazzarese contro la Nissa. È una grande piazza, hanno un bellissimo progetto e mi hanno convinto a venire. Quest'anno speriamo di arrivare ai play-off, poi un altro anno vediamo, puntiamo a salire.